Neppure il tempo di assaporare la gioia del primo successo della stagione ottanuto sul campo del Cittanova in Calabria e la San Cataldese si prepara nuovamente a affrontare un impegno di campionato, il terzo. Il calendario del Girone I di Serie D propone per domenica 2 ottobre San Cataldese Canicattì, fischio d'inizio alle ore 15, un derby sentito ma caratterizzato da una lunga amicizia tra le due tifoserie, unite da un gemellaggio trentennale. Per i Verdi Amaranto il prossimo obiettivo si chiama adesso prima vittoria casalinga e i presupposti ci sono tutti perché la squadra allenata da Matteo Vullo sembra attraversare un ottimo momento dopo l'opaco esordio al Mazzola con il Sant'Agata, così il capitano della San Cataldese Salvatore Di Marco sulla pagina Facebook Verdi Amaranto. Un derby, sarà una bella partita, penso che ci sia pure anche una bella cornice di pubblico e noi cerchiamo di continuare a dare questi risultati positivi e fare la nostra partita e cercare di portare altri tre punti a casa. Il quadro completo delle partite della terza giornata. Cireale Lamezia, Trapani Paternoli, Cata Catania, Santa Maria Cilento, Sant'Agata, Ragusa Locri, Realla Versa, Cittanova, San Luca Mariglianese, San Cataldese, Canicattì, Vibonese, Castrovillari.